Sono sei, tutti vivaci e di buon appetito. Sei fratellini ritrovati in una busta per l'immondizia in via della Bella a Foggia. Ad accorgersene è stata una ragazza che li ha subito portati al comando di Polizia Municipale. Erano da poco passate le 23 del 14 luglio scorso. Allora in servizio c'era il tenente Francesco Chinni. Per prima cosa ha chiamato il veterinario di turno alla ASL per far visitare i cuccioli. E il verdetto è stato positivo. I gattini, che hanno al massimo una settimana di vita, sono in buona salute. Il tenente allora li ha portati a casa sua e il giorno dopo ha preso contatti con il canile municipale per vedere se fosse possibile alloggiarli lì. Non è stato possibile. A quel punto non ci ha messo molto a decidere. Distinto ha deciso di tenere i gattini con sé e adesso se ne prende cura personalmente. Li allatta più volte al giorno con un apposito biberon acquistato in un negozio di animali. Insieme a lui la moglie Raffaella Tricarico, anche la amante dei quattro zampe. Grazie a mia moglie li allattiamo sei volte al giorno con un latte parzialmente scremato. Crediamo di fare del nostro meglio, sperando che possano vivere e tenerci lì addirittura, perché no? Non sono animali così dolci. Meno dolce il giudizio su chi li ha abbandonati. Bisognerebbe essere puniti come quando si abbandona un bambino, un essere vivente praticamente.